Lo strappo è fatto, il popolo della libertà è dissolto. Da una parte, con il governo, Angelino Alfano e la sua formazione, il nuovo centrodestra. Dall'altra riemerge dal passato Forza Italia, il movimento della discesa in campo, quello del contratto tra gli italiani e il Silvio Berlusconi del 1994. 30 senatori, 26 deputati, hanno aderito al momento ai nuovi gruppi parlamentari, nati per scissione dal PDL, il cui funerale va in scena questo sabato a Roma in occasione del Consiglio Nazionale del Partito, disertato dagli alfaniani. Avevano chiesto garanzie interne, tra cui le primarie e scelte condivise in tutte le cariche e una dichiarazione di sostegno al governo Letta fino al 2015. Nulla è stato ottenuto, più per l'opposizione dei falchi che per il no dello stesso Berlusconi. Non c'è posto per loro nel partito che riparte da dove tutto è iniziato 20 anni fa. Grazie.